Concluso il progetto Porte Aperte verso l'Europa, promosso dal Consiglio regionale. Gli studenti di 10 scuole Umbre realizzano altrettanti blog sui temi della cittadinanza attiva europea e locale. Il servizio. Concluso il progetto Porte Aperte verso l'Europa, strumenti ed attività di promozione per una cittadinanza attiva europea e locale. L'iniziativa è stata promossa e finanziata dal Consiglio regionale dell'Umbria, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e in collaborazione con la Scuola di Amministrazione Pubblica Servizio Europa. Il progetto ha coinvolto oltre 250 studenti di 10 scuole secondarie e superiori che si sono cimentati nella realizzazione di altrettanti euroblog. La figura di San Benedetto e l'Europa, la droga e la legislazione europea, l'intolleranza e l'accoglienza, il lavoro e poi ancora la condizione femminile, i diritti dei minori, la povertà, l'ambiente. Questi alcuni dei temi sviluppati nei blog realizzati dagli studenti. Con il loro stile comunicativo hanno spiegato gli organizzatori. Gli studenti hanno caricato contenuti multimediali, video, immagini, musica, realizzato interviste, reportage, inserite immagini e foto, dati statistici sulla disoccupazione, rivisto e arrangiato in chiave rap persino l'inno alla gioia. Una rappresentanza di 100 studenti degli istituti che hanno aderito al progetto si è recata il 4 maggio a Bruxelles dove, in occasione della giornata porte aperte verso l'Europa, hanno avuto la possibilità di presentare i propri lavori.